Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Alla Crypto Cup 2021 siamo passati ai quarti di finale. In descrizione sotto al video vi lascio la classifica del giro iniziale dopo i 15 turni giocati, in modo tale che possiate vedere chi si è qualificato e chi no. Noi intanto partiremo con il match tra Maxime Vassilagravo e Wesley So, con una partita bella, molto strategica, combattuta su uno dei campi di battaglia storici degli scacchi, il finale berlinese. Partiamo! Il francese apre la partita con E4, Wesley So risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, Alfieri in B5, siamo nella Rui Lopez. Con cavallo in F6, giocata subito, che attacca il pedone centrale, entriamo nella difesa berlinese. Sappiamo che la linea principale per il bianco non è la seppur buona D3 che protegge il pedone, ma è a rocco corto. Il cavallo cattura il pedone, arriva la spinta al centro in D4. Si minaccia di riprendere in E5, quindi il cavallo torna indietro. Con il cavallo che torna indietro in D6, attacca questo alfiere. L'alfiere sotto attacco viene cambiato sul cavallo. Il nero riprende con il pedone D. E dopo D per E5, che costringe il cavallo a spostarsi e quindi ad aprire questa colonna D, al 90% si arriverà al cambio delle donne, quindi al finale berlinese. Il cavallo si porta in F5, arriva infatti il cambio donne, donna per donna indietro con scacco. Il re ricattura e qui alla mossa 8 ci dobbiamo fermare, perché questa è la tabiglia principale, cioè la posizione di partenza di tutte le analisi sul finale berlinese. Che come abbiamo detto, campo di battaglia di innumerevoli partite stupende e storiche. Da qui in poi il bianco può continuare in vari modi, ma la strategia da seguire è più o meno segnata. Allora, ricordiamola insieme. Intanto il nero, ricatturando con il re, che era l'unica ricattura possibile, ha perso il diritto di arroccare. Il bianco, invece che è ben protetto con l'arrocco, ha pure un 4 contro 3, si sta parlando di pedoni, sull'ala di re. Quindi il bianco tenterà di sfondare sull'ala di re. Di contro, un buon elemento strategico del nero è che il nero conserva questa coppia degli alfieri. Quindi, andiamo avanti. Vashila Grav gioca H3, che prima o poi consentirà, supporterà questa spinta in G4 con tempo. Ora, negli ultimi tempi abbiamo visto poche partite con questo finale berlinese. E spesso, mi pare un paio di partite giocate dallo stesso Karsen. Vediamo il bianco avanzare questa maggioranza di pedoni, schiacciare il nero, vincere partite stupende. Ma vi assicuro che il compito del bianco non è per nuda semplice. Mosse che non siano perfette o quasi, fanno guadagnare tempo e terreno a nero che anche lui può creare un suo pericolosissimo contrattacco. Allora, Wesley Soh non muove il cavallo, gioca alfiere in D7. Con torre in D1, Vashila Grav gli ha inchiodato l'alfiere sul re. Ora, il re cosa vuole fare praticamente? Per quale motivo ha mosso questo alfiere in D7? Perché il re si vuole rintanare in B7. Ora però, finché questo alfiere è sotto attacco massimo, si potrà spostare in C8. Allora arriva alfiere in E7 e non alfiere in C5, come non conoscendo tanto la posizione si potrebbe pensare, perché questo alfiere deve controllare queste case importantissime perché qui ci sarà l'attacco del bianco, arriva G4. Cavallo sotto attacco non può portarsi in E7, si porta in H4. Il re non si può muovere, quindi non può avanzare e quindi il cambio è praticamente forzato. Cavallo per cavallo, l'alfiere ricattura. Ora c'è da sviluppare il lato di donna, quindi Vashila Grav gioca cavallo in D2, arriva re in C8. Ora, con il cavallo di fronte alla torre si è schiodato l'alfiere e ottenuto l'alfiere non è più sotto attacco, il cavallo però si muove in E4. Qual è l'idea del bianco? L'idea del bianco è quella di giocare alfiere in G5, praticamente forzare il cambio degli alfieri scuri, togliere al nero l'unico vantaggio posizionale che ha. Quindi per questo motivo Wesson non glielo permette, gioca H6, che controlla la casa G5, arriva A4. Arriva anche A5, ora attenzione perché una manovra che è stata giocata, ma ci sono in questo momento pochissime partite in database, è torre in A3 con il raddoppio delle torri sulla colonna D, che è un'idea interessantissima, e invece il francese gioca una novità. Il cavallo che salta in C5 attacca per la seconda volta questo alfiere? Ora, sembra anche una bella novità perché costringe questo alfiere a tornare indietro, invece al computer questa mossa non piace più di tanto. Quindi vediamo un po' come si svilupperà questa partita. Alfiere sotto attacco si porta in E8, arriva B3. B6 arriva con tempo, il cavallo si deve spostare in D3, arriva anche C5. Ora, vedete che giustamente avanzare il pedone doppiato è cosa buona, perché oltretutto libera questo spazio, questa casa C6, per questo alfiere campo chiaro. Guardate che diagonale stupenda che è. Allora, alfiere in B2, e qual è l'idea? L'idea è di giocare E6 e di attaccare questa struttura pedonale, ma Wesley Soh arriva un attimo prima, gioca la fortissima H5. H5 è forte perché attacca questa maggioranza pedonale al momento giusto, e ora il bianco non sarà mai lui a catturare sciupando proprio la struttura. Qui oltretutto, poi lo diremo anche in seguito, si minacciano anche ben altre cose. Allora, Vashila Grav gioca F3, arriva Re in B7. Come mai non ha catturato subito Wesley Soh? Perché tanto non c'è furia. Perché il bianco non sarà mai il bianco a catturare qui sulla colonna H, e quindi a sciupare questa struttura. Il bianco continua con Re in G2, arriva alfiere in C6 su questa bellissima diagonale che inchioda anche il pedone sul Re. Quindi, vedete, si nota che qualcosa è andato storto per il bianco. Alfiere in C3. Qual è l'idea di Vashila Grav? L'idea è quella di trovare il modo, finalmente, di togliere al nero questa coppia degli alfieri, andando a cambiare gli alfieri campo scuro. È una brutta posizione, però, perché il nero minaccia anche di aprire questa colonna H, che, come dicevamo, soltanto lui può dominare. Wesley Soh, in questa posizione, gioca una mossa particolarmente forzante, che è questa mossa F5. Qui bisogna aver valutato bene questa mossa, perché, guardate che succede, crea un pedone passato a Vashila Grav, però è anche un doppio attacco sulla casa G4, protetta soltanto una volta, perché, ricordiamoci, il pedone è inchiodato. Quindi, vediamo un po' che succede. G per F5 è quasi obbligata. Quindi, G per F5, arriva la torre ad attaccare il pedone. Un pedone indifendibile. E quindi arriva E6. Il pedone passato continua ad avanzare. Torre cattura in F5. Attenzione alle terribili minacce di conquista del pedone della casa F3. E quindi Vashila Grav costretto a giocare cavallo in E5. Difende e minaccia finalmente di togliere questa coppia degli alfieri al nero. Siamo arrivati al nostro quizone. Un quizone forse semplice, ma secondo me di grande sostanza, e la domanda per voi è questa. Cosa deve giocare adesso il nero? Quale deve essere il suo obiettivo? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, perché Wesley So giocherà l'idea più forte, che è torre in E8. Anche torre in H6 andava bene, perché l'importante, l'idea, è quella che con il bianco bloccato, praticamente nella difesa, bloccato nel suo attacco, Wesley So vuole togliere al bianco la sua unica grande risorsa, che è il pedone passato, e ce la farà. Il cavallo cattura in C6, il re ricattura, anche questo pedone è indifendibile, perché non si può giocare torre in E1, quindi torre in D2, giocata dal francese, torre cattura in E6. Qui più di qualcosa è andato storto. Torre in F1, sembra anche molto passiva, arriva alfiere in E1. Alfiere in E1 porta ad una semplificazione, naturalmente la torre si deve spostare, ma guardate un po', oltre la semplificazione, guardate che cosa perde. Perde il controllo della seconda traversa, la torre di Wesley So, la conquista, la domina con tempo, perché c'è lo scacco, il re nell'angolo in H1. Alfiere per alfiere, la torre ricattura, torre in D5. Quindi con questo movimento di torre, che fa pensare al raddoppio delle torri sulla seconda traversa, si consolida il dominio posizionale di Wesley So, e quindi qui bisogna tentare un disperato controgioco sul lato di re. F4, arriva il raddoppio delle torri, guardate che minacce terribili, arriva torre in G3. Quindi l'unica idea di Vascia Grave è quella di crearsi lui il pedone passato, e quindi torre cattura in C2. Il re si porta in G1, questa è una mossa strategicamente importantissima, perché è importantissimo il controllo di questa casa F2. Ritorniamo indietro di una mossa, perché qui, andando a giocare velocemente, tutti avremmo catturato in G7, ma guardate che succede. Torre cattura in G7, arriva torre in F2. Attaccando la torre, che è sospesa, qui forza il cambio torre, e se la torre si sposta, glielo toglie il pedone passato, quindi inutile averlo creato. Torre per torre, la torre ricattura, torre in F7 se lo protegge, ma guardate un po', arriva torre in F3. Lo scacco di torre non serve a niente, perché addirittura accelera l'entrata in gioco del re, qui casca tutto, ed il bianco può sicuramente abbandonare. Quindi, re in G1, certo, mossa strategicamente importantissima, un altro tempo perso, che non si fa sfuggire, invece, Wesley So. È un tempo perso, che naturalmente andava perso per forza. Torre in E7, il bianco non sarà più in grado di creare il pedone passato, vasce da grave, ha la mossa 34, abbandona. Per Stockfish è meno 7, quindi vuol dire, che il nero sicuramente andrà a donna, ma andiamoci un po', a donna, studiamoci un po' a questo finale. Quindi, giochiamo qualche altra mossa. Ora, naturalmente, ci sono infinite continuazioni, speriamo che vi soddisfi quella che io, umanamente, un po' ho trovato. Torre in G5, e qui si attacca il pedone più debole, arriva però C4. C4, un'altra mossa forzante, perché sicuramente accelera i piani del nero su questa adire, e perché qui il bianco è costretto sicuramente alla cattura, B per C4, la torre ricattura. A4, qui, uno dei due cade per forza, e quindi, torre cattura in H5. Il nero ha liberato, ha sgomberato totalmente il lato di donna, quindi sarà pronto il suo contrattacco di pedoni, vediamo se il bianco può fare qualcosa invece sul lato di re. Arriva F5, torre in F7 a bloccare il pedone. Torre in G5 per fare posto all'avanzata del pedone H, ma non c'è tempo, perché arriva torre in C4. Queste sono tutte mosse che sembrano difficili, ma in realtà sono molto umane, perché questa torre evita gli scacchi, evita pure che il pedone H, quindi rimanendo su questa quarta traversa, evita che il pedone H possa avanzare. Il bianco lo vuole far avanzare e quindi torre in G6 con scacco, il re non si deve portare avanti ai pedoni, si deve mettere dietro. Re in B7 adesso arriva torre in G4. Torre in G4 vuole fare da scudo al pedone. Naturalmente cambiare le torri in questa posizione favorisce soltanto il bianco, quindi la torre si porta in C5. Doppio attacco sul pedone, raddoppio delle torri sulla colonna F. Inizia però adesso un'avanzata lenta, ma che non si può fermare dei pedoni del nero sull'ala di donna e qui il bianco continuerà con H4. Arriva anche a 4, H5. A3, ora però non si può avanzare perché il pedone è inchiodato, bisogna che il bianco si faccia aiutare anche dal re, arriva re in G2. Fermiamoci un attimo perché vi ho messo un quizone anche nella partita, nella parte di partita che non è stata giocata. funziona secondo voi il sacrificio di torre su F5 in questo caso? Mettete pure in pausa e calcolate se è buono oppure no. Ritorniamo a noi, guardate quanto sono belle, interessanti queste tattiche anche sui finali perché il sacrificio di una torre sul pedone funziona come? Torre per pedone, la torre ricattura, mi sono scordato le frecce ma tanto si capisce lo stesso, torre per torre e il bianco ha la torre di vantaggio ma questi pedoni non si fermano più perché arriva a 2 alla prossima questo pedone promuove quindi la torre per forza deve riportarsi sulla prima traversa quindi a controllare la casa di promozione ma arriva a B4. Il re non ha tempo perché il re guardate è lentissimo per arrivare dalle altre parti della scacchiera quindi non riesce a proteggere, non riesce sicuramente a trovare il tempo per catturare il pedone e poi promuovere perché qui arriva a B3 arriverà a B2 arriverà a 1 e praticamente è festa finita quindi una partita strategicamente perfetta di Wesley So che dimostra quanto ancora sia forte questa difesa berlinese io spero che vi sia piaciuta ma soprattutto spero che questa partita così strategica vi abbia lasciato anche qualcosa su queste linee al solito se il video vi è piaciuto non scordate di mettere like non scordate di iscrivervi al canale e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo quarto di finale della Crypto Cup 2021 a presto 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 Grazie a tutti